Mi chiamo Stefano De Idda, ho frequentato la seconda edizione del corso superiore di cucina italiana qui in Alma e attualmente sono lo chef del ristorante del Corsaro di Cagliari. L'esperienza in Alma per me è stata fondamentale. Io vengo da un percorso un attimo anomalo, nel senso che non ho fatto l'alberghiero, ho fatto il liceo scientifico, ho studiato il giudice di sprudenza, ho dato diversi esami, però ero attratto da questo mondo. Nel momento in cui ho deciso di voler seguire quella che era la mia passione, quindi la cucina, ho cercato quello che poteva essere l'accademia più importante e più strutturata che poteva darmi di più in assoluto ed è quello che alla fine ho trovato in Alma. Il piatto al quale sono particolarmente legato sono i Cooler Jones con il ripieno di cipolla e pecorino, che è un piatto storico del ristorante. Il trend attuale è quello di cercare di concentrarsi sempre più sul prodotto, cercando di portare avanti una cucina che lavora per sottrazione, quindi una cucina di sintesi assoluta, che cerca di scovare l'anima del prodotto scelto come protagonista del singolo piatto e adottare tutte le tecniche del caso per mettere in risalto, dal punto di vista organolettico, le caratteristiche del protagonista scelto. Io ai diplomati Alma consiglio di vedere la formazione didattica, sia pratica che non, come un punto di partenza. Il punto di forza di Alma è quello di fornirti un bagaglio di conoscenza veramente ampio. Quindi far bagaglio di tutto quello che si può imparare ad assorbire tutto come una spugna per poi utilizzare questo come base nel momento in cui poi ci si cimenta nel mercato del lavoro. Grazie a tutti!